Dopo oltre dieci anni Rosalba Panvini torna a guidare una campagna di scavo nell'area archeologica di Bosco Littorio a Gela e il sito in cui, negli anni in cui era sovrindente di Caltanissetta, sono affiorati prima gli ambienti in mattoni crudi dell'Emporio Arcaico poi le tre arule fittiliche per la loro unicità sono state esposte in America, alla Louvre e a Montecitorio. Ora sono tre gioielli del Museo archeologico di Gela. Rosalba Panvini è tornata in città nella veste di docente dell'Università di Catania a proseguire l'indagine archeologica in quell'area con un gruppo di laureati e laureandi. Uno scavo possibile grazie alla collaborazione della Solitendenza di Caltanissetta, del Polo Museale di Gela e Caltanissetta, di sponsor privati e della grande disponibilità di Rolino di Dio per l'ospitalità degli studenti. Poter tornare nel punto che ha segnato la mia attività scientifica è veramente un grande piacere. Le aspettative, anche come abbiamo visto con Antonio Catalano, Rosanna Fisci, con i rappresentanti anche degli studenti e soprattutto a questi si sono aggiunti gli studenti del liceo classico di Gela, le aspettative sono tante. Noi speriamo di poter ancora portare avanti questa ricerca rimettendo in luce parte dell'emporio. Però partiamo da un presupposto. Qualunque cosa si dovesse o non dovesse trovare, la ricerca scientifica è sempre un'avventura emozionante, eccezionale, che segna la vita di tutti quanti. La ripresa dello scavo ci consente ovviamente di recuperare ulteriori dati e quindi capire anche l'estensione di questo quartiere dell'emporio arcaico. Ma l'altra aspettativa è anche di tipo didattico perché siamo qui a disposizione di questi allievi, sia dell'Università di Catania che del liceo classico di Gela, per trasmettere loro quella che è la nostra esperienza in campo scientifico e archeologico. La valorizzazione si inizia già sin dallo scavo perché non appena si trovano delle cose deve pensare subito a quello che è la conservazione dei reperti che ci sono. Quindi bisogna preordinarlo sin dall'inizio. Quindi un buon scavo deve prevedere pure quello che è la conservazione degli elementi. Certo, il momento della regione è quello che i finanziamenti non ci sono stati. Pensiamo che si tratta di una grandissima area questa, quindi non si può pensare della valorizzazione con pochi soldi. Qui ci vogliono dei progetti strutturati e anche le manutenzioni continue, perché come ripeto sempre, soltanto una manutenzione continua può dare quella fruibilità a un'area che attualmente non ha. Noi siamo sempre a disposizione della città e di ogni attività che si fa per il bene di questo nostro paese che così tanto amiamo. Allora la piccola casa si è messa a disposizione sia per l'ospitalità e per tutto l'aiuto che noi possiamo dare per questi ragazzi ma soprattutto per riqualificare questi luoghi così importanti per noi.